Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. In A11 coda per traffico tra Luca Est e Capanno in direzione Firenze. In FIPILI segnalata coda tra Firenze Scandice e La Strassigna in direzione Livorno. Coda in direzione Firenze tra Ponte della Est e Montopoli-Valdarno. In A1 coda tra Arezzo e Firenze Sud viaggiando verso Nord. Sempre verso Nord coda per traffico intenso tra Carenzano e il BV1 variante. Coda in A1 verso Roma tra Firenze Sud e Valdarno. In A12 coda tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. In direzione Genova coda tra Versilia e Sarzana. La linea T1 della tramvia Villa Costanza-Careggia-Firenze al momento è interrotta per danni dovuti ai temporali. Attivi bus navetta sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!